Dopo lo sciopero del personale ausiliario e di cucina, anche le educatrici e le maestre di nidi e scuole dell'infanzia del Comune di Venezia scendono in piazza. Le richieste alla Giunta Brugnaro sono soprattutto per un aumento di personale e di sicurezza sanitaria, due tematiche peraltro profondamente connesse. L'adesione, fanno sapere i sindacati, è stata molto alta. Le più volte abbiamo chiesto alla Giunta, a questa amministrazione, di dare risposte rispetto alle assunzioni, all'apertura delle scuole in sicurezza, alla garanzia e alla tutela del personale e dei bambini, ma troppo spesso non siamo stati ascoltati e le risposte non sono arrivate. Per cui questo sciopero è frutto di un percorso lungo in cui abbiamo provato a discutere, a trovare soluzioni, ma purtroppo sempre inascoltati da questa amministrazione. Qui stanno protestando non per i soldi, non stanno chiedendo nemmeno un centesimo per loro, ma stanno chiedendo solamente perché ci ha fatto un servizio di qualità. Non c'è stata programmazione, il disastro più assoluto. Noi da maggio abbiamo chiesto di discutere e ragionare, ma l'amministrazione è sempre stata inadempiente e non ha mai voluto ascoltare. Questo è lo sciopero delle maestre di nidi e scuole dell'infanzia del Comune di Venezia, non lo sciopero nazionale del pubblico impiego. I rappresentanti dei lavoratori lo sottolineano con forza. Qui le tematiche sono locali e chiamano in causa l'amministrazione locale. Il presidio di CGL Cislewil del Veneto, in occasione dello sciopero nazionale del pubblico impiego, era invece in Campo San Geremia a Venezia, a diversi chilometri di distanza da Piazza Ferretto. Un presidio per chiedere assunzioni, sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, stabilizzazione dei precari nelle amministrazioni pubbliche ed un rinnovo contrattuale dignitoso per chi garantisce servizi ai cittadini. Grazie a tutti.